Convocato il Consiglio Comunale di Cosenza, la data della riunione del civico consesso, la prima dopo il voto del 5 giugno scorso, è stata fissata per il 28 luglio alle ore 17. Il Consiglio si terrà nella Sala delle Adunanze del Palazzo della Provincia. Il ritardo è stato determinato dal prolungarsi delle operazioni di verifica da parte dell'Ufficio Centrale Elettorale. Il punto all'ordine del giorno più importante è l'elezione del Presidente del Consiglio, un passaggio delicato per la maggioranza sul quale il Sindaco sta lavorando di diplomazia. L'architetto si è reso conto che l'ipotesi di Nardo non è più praticabile ed ha deciso di puntare le sue carte su Pierluigi Caputo, primo eletto della composizione civica Mario Occhiuto Sindaco, una scelta che il primo cittadino ha lasciato intendere nel corso di una cena alla quale ha invitato tutti i consiglieri eletti nelle sue liste. Era però assente Francesco Spadafore il quale rivendica la prestigiosa carica in forza delle oltre 900 preferenze conseguite. La convocazione del Consiglio, decisa con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza imposta dalla legge, potrebbe essere il segnale che in seno al centro-destra si sia trovata una quadra per arrivare compatti in aula ed evitare sorprese. Impressione confermata anche dai volti distesi e dall'atmosfera tranquilla che si respira a Palazzo dei Bruzzi. Salvatore Bruno per la CNews24